gentili telespettatori buona giornata giorgia meloni enrico letta sono accomunati da qualcosa conte salvini sono accomunati da qualcosa perché letta e meloni salvini e conte due salvini e come si chiama e conte centrodestra centrosinistra letta e meloni centrodestra centrosinistra che ci azzeccano e sì adesso ve lo racconto la coerenza prema i premi agli adulti giorgia meloni enrico letta sono gli adulti del parlamento quelli con la testa sulle spalle quelli che non inseguono quelli che non inseguono l'elettorato ma si fanno seguire dall'elettorato e poi abbiamo conte salvini due populisti da da bar uno il professor conte blasonato professore universitario che si è mostra si è dimostrato un populista come salvini due accalappia voti salvini che ha capito che le spese militari gli italiani non le vorrebbero aumentare e allora diventa papa sì papa no papa winnie segue il papa lui è come il papa è come il pontefice il pontefice della politica e allora sulle spese militari sì no forse che facciamo cosa facciamo per votare qui c'è imballo se votiamo no rischiamo lo stipendio se votiamo sì allora l'elettorato ci segue stessa cosa conte uguale conte uguale identico adesso è contro l'aumento delle spese militari quando nel 2019 ha firmato assieme agli altri paesi nato per portare le spese per la difesa europea al 2 per cento del pil adesso è fervidamente contrario l'aumento delle spese militari voi dite perché perché il suo elettorato è contrario allora lui deve prendere la parte dell'elettorato se no non lo confermano come capo politico e poi ha bisogno di recuperare voti il movimento 5 stelle al 12 per cento la lega al 15 gli ultimi sondaggi dicono questo movimento 5 stelle al 12,7 lega al 15,9 i livelli più bassi che che abbiano mai registrato questi due partiti dal 2018 in poi mentre dall'altra parte abbiamo due capi politici che sono coerenti con le loro idee giorgia meloni leader di fratelli d'italia enrico letta segretario del pd il tanto criticato segretario del pd quando è arrivato dalla francia gliene hanno dette e gliene hanno dette di tutti i colori un non politico ma cosa dice ma come ragiona gli stessi del pd si erano pentiti ma non potevamo lasciarlo lì dove era per sentire le cose che dice questo era meglio prendere chiunque qua in italia invece letta e meloni piano piano hanno continuato a esprimere le loro idee indipendentemente dal seguito politico giorgia meloni e enrico letta sono a favore dell'aumento delle spese per la difesa e anche a favore dell'invio in altri paesi stanno andando contro contro quello che è il sentito comune sulle spese per la difesa gli italiani in maggioranza pensano che sia sbagliato aumentare le spese per la difesa questi due leader politici invece dicono di sì diceva ma l'elettorato pensa forse dicono di sì sia letta che meloni dicono sì all'aumento delle spese per la difesa in controtendenza e fregandosene di quello che l'elettorato in maggioranza pensa se loro fossero come salvini e conte oggi ci direbbero anche loro siamo anche noi contro l'aumento della spesa militare tutti contro draghi sarebbero invece la coerenza premi agli adulti letta e meloni incredibile dover accomunare letta e meloni e voi guardate sono il primo secondo partito secondo i sondaggi 23 22 21 sono i primi due partite guardate che invece i partiti dell'incoerenza i partiti delle banderuole stanno precipitando nei sondaggi quei capi politici come conte salvini che inseguono l'elettore no no aspetta aspetta non andare via io la penso come te cosa pensi tu su dici sì anch'io dico sì e tu tu non andare via tu cosa pensi dici no anch'io dico no ma l'elettorato non è così stupido l'elettorato si informa guardate questo canale che parla solo di politica principalmente 15 milioni di visualizzazioni al mese e voi credete veramente che l'italiano è così stupidotto che non si interessa di politica che si beve tutto quello che dice il capo politico sì no forse sì no non andare via stai qui stai qui e quindi conte salvini sono molto simili letta e meloni pur pensando diametralmente all'opposto hanno un modo di affrontare la politica con coerenza e da adulti pertanto i sondaggi premiano pd e fratelli d'italia e affondano movimento 5 stelle e lega possibile che i due capi di questi due partiti che affondano non riescano a capire quello che vi sto dicendo la risposta è no se no sarebbero come letta e la meloni e proprio questo è il punto e proprio questo è il punto c'è possibile che conte salvini non si fermino si guardino allo specchio perché abbiamo perso il movimento 5 stelle ha perso molto di più della lega il momento 5 stelle ha perso il 23 per cento dell'elettorato la lega al 20 questi due partiti hanno perso 20 oltre 20 milioni di elettori hanno perso lega il movimento 5 stelle possibile che non si rendano conto no se si rendessero conto si comporterebbero come salvini come meloni e letta ma non lo fanno perché non sono consapevoli di quello che sono arrivederci a tutti e grazie